La partita è una partita di sofferenza, la felicità è tripla perché hai vinto iniziando una grandissima gara e facendo un grande calcio, hai vinto mettendoci il cuore, mettendoci l'anima e questo è una cosa che ci piace e piace alla gente, piace ai nostri tifosi, che vincere delle partite così non è facile. E terzo non è preso gol, perciò prendiamo tre situazioni a noi favorevoli, vincere ti dà certezze, ti dà sicurezze, non prendere gol ti dà modo di prendere una situazione di linea più alta e perciò stasera ce la godiamo. E' stata una prestazione di gran carattere e non soltanto nel finale quando si doveva soffrire qui di mettere in campo più il carattere che le gambe perché forse le gambe ne avevano ancora poco negli ultimi 20 minuti, l'ultimo quarto d'ora, però sembrava all'inizio di questa partita una prosecuzione di quella di Parma, cioè la squadra voleva assolutamente come se volesse chiudere un discorso che a Parma era rimasto a metà, altri dieci minuti a Parma forse avremmo vinto la partita, si è iniziato subito bene qui con quel piglio. Sono due partite completamente diverse, quello che c'è è che la squadra ha voglia di fare il risultato, fare il risultato significa proporsi, significa portare più uomini all'interno della metà campo avversaria e vincere contro la Sampdoria io lo so bene perché ci ho lavorato due anni, vincere con le squadre di Marco Giampaolo non è affatto semplice perché quando hai un avversario che ti sposta così tante volte con questo possesso palla continuo che cambia direzione da una parte all'altra del campo, tieni bene i primi 60-70 minuti e poi dopo si inizia a far fatica perché loro hanno una prerogativa che sono secondo me dai dati statistici la squadra che corre meno in tutta Italia e questo vuol dire che sono una squadra molto stretta e che fanno tanto possesso palla. Giocare contro le squadre così è difficile. Dopo la Sampdoria il calendario le metterà di fronte la prossima settimana un'altra sua ex squadra, la Fiorentina. Abbiamo una tradizione negativissima con la Fiorentina quindi possiamo sbizzarrirci in qualsiasi cosa perché le ultime dieci se non ricordo male contro la Fiorentina l'Udinese le ha perse. Questa Udinese però che sta crescendo anche dal punto di vista della condizione fisica perché è un dato anche questo da sottolineare un'ora di buon calcio, di ottimo calcio sostenuto anche da corsa, da gamba. Adesso a Firenze, Fiorentina che oggi ha fatto molto bene magari ci si potrà andare finalmente a togliere lo sfizio e di sottrarre qualche punto alla Fiorentina. La Fiorentina ha lavorato bene sul mercato, sono due anni che lavora con Pioli si gioca dentro uno stadio che lo conosco come le mie tasche, lo conosco benissimo e so quello che ti dà quello stadio, so quanto ti porta di punti quel calore, quella gente però noi siamo una squadra che è una squadra sbarazzina, una squadra dove la gioventù fa la differenza sotto il profilo dell'entusiasmo, diciamo anche dell'inconsapevolezza. questo qui potrebbe essere un'arma a nostro favore.